una sola parola do lo mi ti ventesima tappa il giro italia quella dove si deciderà tutto ieri combo man della jumbo visma è riuscito a passare per primo all'ultima curva sinistra ed ha vinto la sua seconda tappa in questo giro con la maglia blu che vincerà alla fine di questo giro 105 ma oggi si parlerà solo ed esclusivamente di maglia rosa risar carapaz la indossa già da qualche giorno concentratissimo prima di una delle tappe più importanti della sua carriera tre secondi a gestire su già i hindley michel landa 1 e 0 5 quarto e vincenzo nibali a oltre 4 minuti alanda vedremo quindi oggi cosa avranno confezionato la borans gro e la inios grenadiers e la barain victorius per cercare di vincere questo giro in base a come si sentono a come sono arrivati di gambe a questa ventesima tappa dopo un giro molto duro molto caldo senza avere tappe di trasferimento ed eccoci qui al tappone finale si arriva sulla marmolada prima si scallano il passo pellegrino e il passo pordoi che è la cima coppi di questo giro in questa tappa non ci si può nascondere si sale quasi tre volte sopra i 2000 metri col san pellegrino che è 1900 e spicci ma tutto si esiderà sul rampone finale del passo fedaia 5,7 chilometri al 10,4 per cento punte vertiginose sono 168 chilometri dopo una ventina inizia definitivamente a formarsi su uno strappo durissimo non classificato la fuga molto corposa dentro fra gli altri ci sono domen novak per barain victorius che può eventualmente aiutare michellanda e lennar kemna fortissimo scatore della borans grue eventuale testa di ponte per zai hindley dietro tiene controllata la situazione barain victorius il vantaggio non salirà mai sopra i sei minuti ma in realtà rimarrà fisso sui sei minuti per praticamente tutto il pordoi sul pordoi parte alessandro covi dalla fuga con uae emirez che attua un bel gioco in squadra con davide formulo dietro a bloccare il gioco della fuga alessandro covi se ne va a prende oltre due minuti di vantaggio passa per primo sulla cima coppi non trova mai collaborazione la fuga dietro vediamo qua giulio ciccone che ha un altro dei pezzi grossi di questa fuga con anche timen aresman se è momen che qua si stacca mentre lemreis e il suo compagno cerca di seguire gli altri ma questi tre aresman ciccone e novak rimarranno da soli novak stesso per barain riparte a cinque chilometri dalla fine siamo già sulla marmolada ma alessandro covi ha un minuto e mezzo da gestire su novak è tanto ma qua ci si possono spezzare le gambe ecco finalmente dopo una tappa intera di attesa il gruppo dietro che sbuca fa capolino la solita inos grenadiers con pavel sivakov iniziano a staccarsi praticamente tutti sul suo ritmo rimangono dietro i lui soliti tre carapaz landa e hindley si staccano il quarto in quinti classifica nibali e peglio rimango lì yanirte hugh carty ma siamo alla resa ai conti fra i soliti tre e a tre chilometri alla fine parte zai hindley lo segue richard carapaz non lo segue michel landa con carty e carapaz si impegna in questo inseguimento sono rimasti loro due a giocarsi il giro italia ma zai hindley ha un asso nella manica elena arkemna che si stacca della fuga e torna indietro per dargli una mano gli offer la scia si traveste a michele scarponi e piano piano richard carapaz inizia a soffrire soffrire e poi si stacca sul drizzone della marmolada e quando lo vede già hindley parte parte come se non ci fosse un domani non si guarda più indietro da tutto quello che ha richard carapaz è in pesante difficoltà sulla marmolada hindley sui pedali sente la maglia rosa che gli si materializza sulle spalle e richard carapaz è in grossissima difficoltà come l'abbiamo mai visto in questo giro viene addirittura sorpassato da hugh carty e rimane invece con lui con un sottile crudele gioco psicologico lennar chemna mentre alessandro covi non verrà più ripreso da damen nova che può arrivare da solo esultando spettacolare impresa di alessandro covi che finalmente meritatamente vince una tappa al giro la dedicherà al compagno di squadra joao almeda che questa classifica non se l'è potuta giocare vede invece molto vicina sempre più vicina la maglia rosa già hindley che arriva totalmente stremato ma felice sul fedaia mentre dietro di lui sbuca michel landa che a sua volta nel finale ha sorpassato insieme a carty un carapaz totalmente scoppiato in questa salita arriva con 50 secondi da hindley landa che sale il suo passo e risponde bene al momento di difficoltà arriva con un minuto e mezzo richard carapaz che perde la maglia rosa esagera nel cercare di seguire hindley soprattutto dopo che arriva il traino di chemna decisivo per la vittoria finale del giovane australiano molto probabile dopo la tappa di oggi discutono il vincitore di tappa covi e il probabilissimo vincitore del giro italia già hindley uomo del giorno è alessandro covi che incastò una pietra preziosissima nel proprio palmarès non lo conoscevamo come scatore puro ma come corridore a percorsi misti eppure è questa la più importante vittoria in carriera finora per il 23 anni di borgomanero ma ne succederanno tante altre arriva terzo ciccone ma soprattutto quello che conta è la tappa di oggi è che già hindley indossa di nuovo la maglia rosa la ventesima tappa era già successo al giro 2020 quando poi nella crono finale la perse da tau gagan hart vedremo in questa crono se riuscirà a gestire il vantaggio però veramente importante ora su richard carapaz un minuto e 25 prima della breve crono di verona 1 e 51 su landa che vede il secondo posto ma sarà difficile andarlo a prendere anche se oggi carapaz è sembrato decisamente soffrire eccolo qua il percorso della crono di domani la crono di verona 17 chilometri si parte dalla fiera si scala torricella massimiliana 4,1 chilometri al 5,4 per cento e poi si scende giù fino al classico arrivo nell'arena di verona domani si chiuderà questo giro la tappa di oggi non ha mostrato nessun movimento di classifica ha tolto il sorpassone di hindley ai danni carapaz sono veramente tanti quei secondi da gestire vedremo dietro se succederà qualcosa landa potrebbe avere la chance di andare a prendere questo secondo posto se veramente carapaz ha calcolato male lo sforzo quando ha provato a seguire hindley e chemna la nuova maglia rosa è già i hindley la tappa la vinta alessandro covi ci vediamo domani ciao